Ciao a tutti ragazzi da Corzento 9 bentornati sul mio canale per questo nuovissimo video sono qui con l'aggiornamento delle carte da scambio di Calciatori Pannini 2013-2014 e con un aggiornamento speciale come era già stato qualche volta fa sempre di giovedì, sapete l'aggiornamento delle carte da scambio perché come quella volta vi ripropongo ragazzi Topolino Goll che nonostante molte offerte durante l'asta insomma non è mai alla fin fine stato venduto, insomma cambiato perché nessuno poi ha fatto un'offerta seria seria non nel senso che non bastavano le carte ma seria nel senso che non è andato avanti poi con la trattativa poi per chi se le fosse perse ci sono il fine del campionato la corsa in inverno, qualcuno mi ha detto di tenerle qualcuno di tenerle per loro ovviamente nel senso di tenerle un attimo poi le scambierò qualcuno mi ha detto invece che le voleva ma non si è fatto più avanti quindi ragazzi se le volete dovete farle avanti con offerte non ti do 10 carte, quali carte volete darmi? ci diamo i dati, punto, ci scambiamo le carte su bene, due bustine e poi ragazzi c'è una bella pila di carte qui sono ragazzi tutte le mie doppie bene ragazzi quindi se le volete o le bustine o Topolino Goll o comunque qualche carta che vedete nei ragionamenti scorsi o comunque nel ragionamento finale che farò mi raccomando fate offerte definitive per messaggio privato o per commento quindi ragazzi un saluto alla Corazionato 9 mi raccomando seguitemi sempre nei video scorsi e quelli che farò lasciate un bel mi piace iscrivetevi e commentate ciao ciao